Le mie aspettative rispetto al Ducati sono migliori di quello che potessi immaginare, nel senso che avevo qualche timore di vedere una manifestazione molto folcloristica, nel senso negativo di questo termine, invece trovo tanto folclore, nel senso molte comunità di pratica, molte persone, un grande pubblico dai più piccoli ai più anziani e questo mi sembra veramente un grande successo, una grande riuscita, soprattutto nell'ottica che interessa poi anche a noi, che studiamo il gioco, le manifestazioni di cultura tradizionale, perché siamo molto impegnati negli ultimi anni nei processi di trasmissione e qui con il Ducati questo processo mi sembra perfettamente riuscito. Allora la valenza del Ducati direi che oltre a trasmettere un patrimonio di conoscenze, di saperi, quindi un patrimonio culturale, mi sembra che sia anche quello di riuscire a far divertire le persone attraverso la cultura e oggi è qualcosa di straordinariamente difficile da fare, perché il divertimento è qualcosa di molto separato dalla cultura, sono due mondi che non si parlano. Nel Ducati mi sembra che questi mondi riescano ad incontrarsi, quindi mi auguro che questo possa anche andare avanti per il futuro.